L'anticipo del sabato vede di fronte Acquedolcese e Torregrotta finisce uno a uno con la formazione di Acquedolce che sfiora l'impresa di fermare la corsa della capolista che poi riesce negli ultimi 20 minuti a ristabilire la parità, una gara ai limiti dell'agonismo, si parte subito con l'Acquedolcese che dopo 9 minuti è a segno con questa bella azione lunga per Di Bartolo che sguscia via ma viene messo giù da Maisano per Fragalà. 10 reale, ci sono gli estremi per il calcio di rigore per il cartellino giallo nei confronti del difensore rosso-azzurro dal dischetto è lo stesso Di Bartolo che fredda il portiere e vinci dopo la ribattuta dello stesso estremo difensore. Dunque un gol in ribattuta per Di Bartolo, 1 a 0 al nono minuto. In un primo tempo a varo di emozioni registriamo anche questo calcio di punizione di Leo che si spegne fuori dalla porta difesa da Barone. Ecco il montaggio di Fabio Colombo, siamo nella ripresa e il Torregrotta che punta subito dritto per cercare il pareggio Isgro per il traversone, Sittineri da buona posizione, calcia però malissimo, alza troppo la mira sulla traversa. Poi su punizione, Sciliberto, il pallone in mezzo e uno schema, l'uscita di Barone per il fallo su Sittineri. Anche in questo caso Fragalano non ha dubbi, calcio di rigore ma c'è anche il rosso per l'estremo difensore dell'Acquedolcese. Dunque inferiorità numerica al settantunesimo. In campo il giovane portiere Iopolo al posto di Di Bartolo e dal dischetto battaglia fa 1 a 1. Ristabilita la parità con la superiorità numerica per il Torregrotta. L'Acquedolcese ci prova ancora allo scadere con questo cross di Onoforo per Falanca alto sulla traversa. Poi prima del triplice fischio c'è questo intervento di Passalacqua su Sittineri per il direttore di gara. Il secondo cartellino giallo e quindi il rosso per il giocatore dell'Acquedolcese che termina in 9 uomini. Ci sono anche le proteste dalla panchina della formazione di casa ma non c'è più tempo. Nonostante l'assalto finale con la doppia superiorità il Torregrotta sbatte sul muro della formazione di Acquedolci. Finisce 1 a 1 con il Torregrotta che porta comunque via un punto dal Cicino Michale.